Ciao bentornati, l'ultima volta che vi ho mostrato questa Chutris TTC 450 ho cercato di darvi una mano a inserirvi nel mondo delle CNC con meno frustrazioni possibili. Una macchina solida, utilizzabile con dei software relativamente semplici, però a corredo un motore veramente debolino da 80 watt. Nel video vi avevo già mostrato che con la mia Stepcraft ho a disposizione 1400 watt, qui siamo proprio al nulla cosmico. Per questo ho pensato di farvi un bel regalino andando a fare un importante upgrade da 80 a più di 700 watt, una bella sessione di stampa 3D utile, dove realizzeremo un adattatore per installare questa rifilatrice Makita sulla nostra piccola CNC. Ovviamente dopo aver condiviso con voi l'esperienza progettuale vi renderò disponibili anche i file per il download, potervi stampare l'adattatore a casa vostra. È gratis anche l'iscrizione al canale ed è gratis anche la possibilità di darmi un grandissimo supporto condividendo questo video, in modo che possa essere d'aiuto a qualcun altro che ha questa macchina o semplicemente per ringraziarmi per l'impegno profuso per realizzare questo contenuto. Partiamo! Prima cosa da fare, andiamo a rimuovere la piccola fresatrice da 80 watt e la mettiamo da parte. Abbassiamo l'asse Z fino in fondo in modo da poter accedere nella parte posteriore alle viti che tengono lo zoccolo di fissaggio di questa fresatrice. Andiamo a rimuovere tutto, abbiamo campo libero per poter fare un po' di misure col calibro. Andiamo a riportarcele su un foglio così da poterci poi spostare su Fusion 360 e iniziare la fase di progettazione. Nuovo sketch in vista frontale, vado a riportare tutte le misure rilevate tenendo conto sia delle forature per lo staffaggio, sia degli ostacoli che sono quelle viti in sporgenza di cui devo tenere conto creando poi delle forature. Oltre al diametro del foro disegno anche il diametro esterno della vite in modo da poterle incassare e nella parte inferiore, dato che non ci sono i fori filettati, vado a disegnare dei dadi M5, ovviamente un pelino più abbondanti, in modo da poter creare delle sedi per inserire dei dadi. Estrusione da un lato con le sole forature, estrusione dall'altro lato con le sedi per viti e dadi. Nuovo sketch con vista dall'alto, vado a disegnare quello che sarà l'alloggiamento della fresatrice tenendo in considerazione un po' di abbondanza nella parte posteriore per quanto riguarda una distanza di sicurezza in modo che il motore della fresatrice non vada a collidere con l'asse Z e nella parte anteriore per avere un po' di consistenza. Vado a disegnare questo rettangolo che mi servirà nell'estrusione per creare il punto di flessione dove poi andrò a inserire le viti per stringere. Vado a estrudere le forature con un po' di abbondanza per permettere alle viti di prolungarsi e quindi non essere vincolati a quella misura precisa. Magari la vita è un centimetro, un centimetro e mezzo, va bene comunque. In questo nuovo sketch vado a creare le geometrie di due alloggiamenti per dadi e la foratura passante per inserire due ulteriori viti e queste mi serviranno per andare a pinzare la fresatrice e tenerla in modo saldo. Anche qui prolungo le geometrie dei dadi in modo da creare una foratura che dall'esterno mi permetta di inserire i dadi. Vado quindi a selezionare le due geometrie e poi realizzo un'estrusione con offset per mantenerla all'interno di quel componente di almeno circa un centimetro per non averla proprio sul bordo e rischiare che quel pezzo sia debole. Non basta la foratura della vite, vado a creare un'ulteriore estrusione in modo da poter incassare la vite selezionando il diametro esterno. Non rimane che fare un po' di ottimizzazione con qualche smusso e dare una parvenza più qualitativa del prodotto e vado ad aggiungere anche il logo del ROS per mettere il marchio di fabbrica per questo lavoro. Importo un vettoriale e poi vado a fare l'estrusione. Pronti per stampare, io ho fatto dei test PLA, PETG, ABS potete stampare tranquillamente con quello che avete a disposizione. Siamo pronti per installare, vado a inserire i dadi e cominciare a fissare uno alla volta ogni vite. Per fissare questo adattatore ho riutilizzato le 5 viti che avevo smontato dal vecchio mandrino con l'aggiunta delle due viti un po' lunghe. Vi riporterò in descrizione la misura delle due viti necessarie e il file da scaricare. Imbocco le viti nei dadi e siamo pronti per inserire la fresatrice. Io utilizzo da anni questo rifilatore dalla Makita, però vi lascio in descrizione cloni e varianti molto più economici di questo. Andiamo a stringere senza esagerare. Inizio con un affondamento da 2 mm e un avanzamento da 500 mm al minuto. Mi accorgo subito che posso andare ben più veloce e quindi vado nel code sender e aumento un po' i parametri. In circa due minuti ho eseguito la lavorazione. Ovviamente fresa up cut crea un po' di bava sui bordi, ma il taglio è venuto perfetto. Vado ad aumentare un pochettino i parametri, quindi un affondamento da 3 mm con un avanzamento di circa 800 mm al minuto. Lavora perfettamente senza sentire la macchina sotto sforzo. E anche qui eseguo questa lavorazione in due minuti e mezzo circa. Ho provato ad aumentare ulteriormente la velocità, ma oltre gli 800 mm al minuto non riusciamo ad andare. Comunque visto il comportamento, con questo upgrade si aprono nuovi scenari di utilizzo con questa macchina che prima peccava di potenza e avevamo a disposizione delle lavorazioni molto lunghe dovute alla fiacchezza di quel motorino da 80 watt. Ora potenza ne abbiamo da vendere, possiamo affondare in maniera molto più importante e velocizzare le lavorazioni. Anche qui una levigatura velocissima per l'utilizzo delle frese a tagliente positivo, però la lavorazione è venuta veramente bella. Bene, direi che la modifica funziona egregiamente. Ho cercato di creare un design più pulito possibile, ma soprattutto robusto, che permettesse di alloggiare la fresatrice Makita che avevo a disposizione. Potete prendere tranquillamente il clone. Poi vi lascio qualche link in descrizione e vi lascio anche le dimensioni delle viti in aggiunta. Uso tutte quelle originali, quindi smontando la piastra sul quale era applicata la fresettina piccolina, con l'aggiunta di queste due qua che vanno a bloccare la fresatrice. Dunque vi metto le dimensioni in descrizione. Ovviamente in descrizione troverete anche il link per il download del file che potrete stampare in PLA, PETG, ABS, quello che volete. Una volta che avete fatto tre loop di parete e il 20% di riempimento viene una cosa veramente robusta. Vi raccomando di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e soprattutto darmi supporto con la condivisione di questo video e anche di quello precedente dove cerco di dare una mano per chi si vuole avvicinare a questo mondo della CNC. Questo è un video upgrade che permette di ottenere migliori risultati in termini di lavorazione e anche di tempo perché per fare la lavorazione qui del logo in ROS ci ho impiegato tre minuti con il motorino standard circa 17-18 minuti, quindi una bella differenza. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima.